L'aspetto comune tra l'Uruguay e Palermo è quello della gente che sono così normali. Dopo mi sono reso conto che guidano uguale a noi, un po' pericoloso, ma l'ho visto appena sono arrivato e ho visto che è un po' tranquillo, è bello perché c'è pure il mare. La scelta che abbiamo avuto con il mio procuratore di venire a Palermo si è parlato un po' poco perché lui mi ha detto di venire qua e subito abbiamo detto va bene perché è una squadra che lotta sempre per salire in A. L'emozione di giocare al Barbera è quella sempre di un calciatore che vuole ricominciare, ha tanta voglia di fare bene. Lo stadio è veramente bellissimo, è grande e come ti dico l'obiettivo più importante è salire con il Palermo Unà e speriamo di vincere tante partite. La mia mamma gioca a calcio e è stato bellissimo vederla giocare perché lei giocava più per divertimento che professionista. Lei era una difensore centrale, io sono un trequartista quindi siamo un po' diversi, ma lei era bravissima a giocare perché mi piaceva tanto vederla giocare e penso che quello di calcio ho tenuto tutta da lei. Grazie. 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 Grazie.